Lui piaceva tantissimo e nella maniera più naturale è nata l'idea di farlo acustico facendogli cantare a lui il ritornello. L'abbiamo fatto, è piaciuto molto e lui nella maniera più genuina mi ha comunque dato questa possibilità che non è una cosa scontata di suonarlo in dei posti incredibili al suo concerto, sono stato allo stadio, è la prima volta che ho suonato nei palazzetti, era con Nick, quindi lui è stato un mito oggettivamente da quel punto di vista. Sono quelle cose che si riguardano la musica, per carità, però va oltre, capito? Mi sta dando il suo spazio, la sua visibilità per un brano che comunque nasceva come mio, non è una cosa da poco, lo fa in una maniera supernaturale perché gli piace il brano, in questo mondo fatto di rapporti lavorativi dove c'è sempre un tornaconto, comunque vedere un gesto così ti fa effetto.